Arte, scienza e anatomia umana si fondono nella mostra fotografica Le Cere Vive di Aurelio Amendola allestita a Palazzo Pitti fino al 18 ottobre. Le opere in cera del maestro Clemente Susini, grazie alla magia della macchina fotografica, riprendono vita con un livello di dettaglio mai visto prima. L'esposizione nasce da un'idea di Ugo Pastorino, direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Giovanni Pratesi, il direttore del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. A Mendola, come Clemente Susini, si colloca in un punto magico tra arte e scienza, tra osservazione e interpretazione e lo dimostra con queste straordinarie fotografie che fanno rivivere ciò che è già vivo nell'intenzione di Clemente Susini. La Venere dei Medici, una statua di donna componibile in cui Susini coniuga la rappresentazione realistica dell'anatomia interna del corpo umano con la ricerca di una bellezza decadente e protoromantica e lo spellato, statua maschile giacente la cui posizione ricorda quella delle statue Michelangelesche.